Ma buonasera duellanti vento strega o duellanti wind witch Suona meglio vento strega quindi lo chiameremo vento strega Una domanda signori della corte Allora questo deck è fatto su una base barn Più loro che hanno degli effetti che levano life points e poi picchiano direttamente l'avversario Vorrei da parte vostra magari un commentino sul fatto Sto deck mi è piaciuto dai non è neanche male Ma soprattutto sul fatto guarda magari c'è qualche carta che ti sei dimenticato Cioè che mi sono dimenticato e voi avete in mente che cazzo ne so Cioè una carta che la TV fa 2000 life points Non esiste però è un modo di dire Mi raccomando mettila perché sto mazzo effettivamente performa Quindi mi raccomando scrivetelo nei commenti se avete voglia Poi vi guardate i replay e vedete com'è che funziona Non è male sto mazzo non è non è malvagio certo è un mezzo for fun Perché alla fine in paragonato ai mazzi da meta è per forza un for fun Ma con certe partenze l'avversario praticamente quasi non gioca Quasi ho detto è quasi non gioca Andiamo a vedere la deck list Ci sono tre perdi vento strega campanello di neve Questo è il tuner che si avoca speciale Il mazzo è incentrato sui mostri di tipo vento perché ti loccano Alcuni ti loccano sulle summon di tipo vento Quindi devi per forza mettere Però siamo pieni di mostri di tipo vento che sono anche forti Tre perdi ma sci Un bian terra dello yang zing Questo messo mono per può capitare di creare mostri immortali Grazie anche a questa carta Indistutibile in battaglia e dai effetti dei carti Tre perdi la campanella di ghiaccio Questa è la carta che ha un più forte con cui parte la combo principale del mazzo Si evoca speciale poi ne evochi una speciale dal mazzo grazie al suo effetto Questa per esempio è stratos Quando viene evocata aggiungi direttamente Insomma fa un più due secco questa carta Poi due perdi campanella del freddo Questa si evoca speciale Si bomba di uno livello Quindi possiamo andare a fare anche i livelli un po' più alti Tipo il come cazzo si chiama Qual bastardo Dove cazzo è porco Il Kyuubi mondo porco dio Tre perde lo stratus che abbiamo appena detto Uno perde la campanella della bufera Che è un 5 stelle quindi carino Tempest Regge X Spolverino Due perdi fusioni magicalizzata Per evocare loro due Fulmine tempesta Scampanio vento strega Che è una carta che ti fa evocare un vento strega direttamente dal deck Tre perdi catena di energia Allora catena di energia per chi gioca al formato got sa perfettamente quanto caga al cazzo sta carta 500 per ogni carta che il nostro avversario o anche noi dobbiamo evocare dalla mano o semplicemente settare sul terreno Fastidiosissima Due perdi richiamato dal porco dio Due anello della distruzione che uno magari può dire E' stato riscritto una merda In questo mazzo serve Tre perdi in permanenza Tre perdi buco trappa dello scavatolo Contro qualsiasi mazzo Ve la butto lì di potiere elements porca madonna Perfetta E poi giudizio solenne due perle Le extra deck ci sono due vento strega campanella Fusione di campanella di cristallo Un mago quintetto Un guerriero carica porco dio Drago sincro alla chiara Tre perdi campanella de merda Dell'inverno Un drago sincro Una vespa battaglia de merda Tutto de merda Cyber arpia Quella lì che si Insomma si giocava nel mazzo arpia Un vento strega campanella di diamante Un cube in mondo virtuale Un barone dei fiori E un anaconda Andiamo a vedere come funziona questo deck Come vi ho detto poco fa Non è malvagio E' un mazzo carino Perché ti barna Semplicemente evocando i mostri Non come quella merda di Truccastella Che Truccastella fa schifo porco dio Per coio Cosa? Come? Per chi? Per coio? Allora iniziamo da Hamburger Iniziamo da hamburger Iniziamo da hamburger O forse era meglio stare da Frank O forse era meglio Frank Vabbè chi se ne frega Tanto alla fine li vediamo tutti Questo tizio giocava uno dei mazzi Che a me piace un sacco E' il Branded Con i draghi del tuono Perché danno una stabilità Non male Cioè ti possono far partire con il drago del colosso del tuono Più il 3000 Più settate Che possono rompere il cazzo all'avversario E non poco Allora inizia il tizio Ovviamente qua ho Max C Quindi grazie a quel porcone Niente Grazie a quel porcone Niente Ma ci negate Ok Questo manda Fa l'Ubelion de merda Attiva l'effetto Che cazzo faceva qua? Faceva Ah si faceva Albion Per rimuoversi Il drago De merda lì Fa la preda pianta Ok E poi evoca il colosso del tuono La preda pianta Beh un negate Una volta per turno Può scegliere un mostro E gli nega l'effetto Non è una partenza clamorosa Però questo non ti fa aggiungere carte dal mazzo Tra l'altro Baffanculo E questo ti fa un negate di un mostro Poi il tuono dopo Poteva fare un po' di roba Infatti vediamo quello che fa dopo Partiamo noi Ti avevo l'effetto della campanella bastarda Questa si evoca speciale Ne evoca uno direttamente dal deck Non ho evocato questa Perché alla fine non potevo Aggiungere carte Quindi che cazzo le evocavo a fare Questa quando Quando un mostro viene evocato Specialmente Cioè Infligge 500 danni È importante Perché alcuni fanno questo effetto Di infliggere danni Evoco normale Faccio il primo sincro Il vento strega Campanella de merda Che posso scegliere un mostro Campanella bastarda Vento strega E fargli 200 Per ogni livello Che possiede Quindi in questo caso 800 Poi con il livello 8 Cioè a livello 1 A livello 7 Faccio il dragocchia E l'ho inculato Perché insomma Io ho spaccato il preta pianta Senza aver bisogno Di fare nulla Questo tra l'altro Mi stava rompendo le palle Perché questo qua Non muore Finché ha praticamente I mostri di tuono Al cimiter Porca troia E non puoi neanche negare L'effetto della distruzione Non lo puoi negare Quindi Cozze Cioè cozze In senso fastidio Allora qui aveva Il caduto di Albaz Non volevo Negarglielo con Drago 5 Perché ho detto Ecco c'ha la mano fullata Ma era sicuramente Il 3002 Io devo negargli La fusione 3002 Ovviamente Poi vabbè Entra in battle phase Attacca con quella Main phase 2 Setta 1 E passa Non ha voluto fare Voleva tranquillo Tanto con questo Questo bastardo In attacco Cioè con questo bastardo Finché non gli neghi L'effetto Completo Col cazzo Evoco Mago Quintetto Mago Quintetto Si evoca facile In questo deck Perché? Perché rimuove Tutti i mostri Incantatori Sono Fanno parte Della combo Che fai automaticamente Quindi Buono Ho detto Dai buono Drago Quintetto Invece Cucazze Vabbè Mi nega l'effetto Di quella Volevo Porco dio Cioè Puttana madonna Vabbè L'effetto di quella È negato Ho detto Mago Quintetto Però Se ci pensate Contro questo mazzo È tanta roba Perché Prima di tutto Non può essere distrutto Dagli effetti Delle carte 4005 Anche lui Il drago sincron Quando l'abbiamo sincrato Con questa piccola bastarda La vento strega campanella Lo rende indistruttibile Dà effetti delle carte Questo tizio Probabilmente Ovviamente Non lo sapeva Perché me lo prova A spaccare Ma non poteva Perché appunto Con quella carta lì Con una buona combinazione Possiamo creare Mostri indistruttibili Immortali E questo tizio Non aveva più Modo di Di farmi fuori I mostri Perché Funziona così Il drago del tuono Scarti Spacchi Attacchi Ma se i mostri Sono indistruttibili È PR cool Qua ho pescato anche Catena di energia Così tanto per Tivo l'effetto Gli levo 3000 Questo qua si pompa Dell'attacco del mostro Con cui combattere E questo qua Continuava Mortasci la madonna A stallarmi A stallarmi Perché Cazzo Questo non muore Questo è un bastardo Di merda Questo colosso Di merda Basta che rimuovi Un fottuto coso E lo PR cool Però il tizio Non aveva capito Che La partita È finita Cioè Basta Non poteva più Fare un cazzo Non poteva più Fare un cazzo Perché c'era anche Questa qua Tra l'altro Che fa 500 Per ogni Per ogni carta Che attiviamo Ma ho detto Basta Che cazzo Continua a fare Porco di Poteva renderti prima Perfetto Ci vediamo Un altro replay Magari contro Mate Matej Te matamach Matej Matej Tupalatej Come cazzo Si chiama Porco di Matej Metat Met In questo In questo replay Tanto pesco tre volte Maschi Robbe 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 brutte Brutte E l'avversario Anche ovviamente Pesca Maschi Come funziona Vabbè Il matemagno Lo sappiamo Riveli quello Mandi quello Io gli faccio Ma che ho detto Speriamo non abbia Richiamato Bloss E non perso la partita Non ce l'aveva Quindi buono Fa il bastardo qua De merda Attiva l'effetto Stacca due Si aggiunge Quello che vuole lui Settavune e passa Tocca a noi Attivo Spolverino delle arpie Subito Per forzare L'attivazione Di quella Trappola bastarda De merda Questa qua Fortissima Stacca Devastante Ti fa calare Tre di o merda E poi ci metti sopra Quella bestia qua Pirolant Che come cazzi Primatech Porco dio Che ti scarta Una carta dalla mano Ho detto qua Porco dio Se mi becca questa È finita Non ho più la combo Ovviamente non me la Ho detto Vabbè Chi se ne frega Ma ci va bene Io ti faccio la combo Completa E provo A romperti il culo Con una mano buona Possiamo effettivamente O TK E anche F TK No F TK No Però O TK Con Gli attacchi E con il barn Insomma Non è male Allora Tra l'altro Mi nega pure L'effetto di questa Che fa 200 Per ogni Cioè Fa Un mostro Scegli un mostro Vento Campanella Nel tuo cimitero E lo piar culo Lo piar culo In che senso Qua cos'è Facevano Rimaneva a 3.900 Cioè Ho un ventaglio Di carte Quante carte Una Due Tre Quattro Cinque Insomma Non ha pescato Solo Spolverino O Tempesta Fulmine Tempesta Con questa in campo Con Bucotrappola La partita era Praticamente Finita Perché Questa cosa fa Fa in permanenza Al primo Metamatch Che si attivava Si prendeva Già 2.000 In faccia E poteva attivare Due carte Quindi ha deciso Di arrendersi Perché era 3.900 Meno 2.000 1.900 Meno già Il 500 Che aveva attivato Non poteva Cioè Praticamente Poteva giocare Due carte E poi non poteva Fare più nulla Quindi Si è reso Giustamente Perché non aveva Pescato Spolverino Delle arpie O che cazzo Ne so Qualche carta Per distruggere Dietro Cioè Il Metamatch Cos'è Mostro 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 Ma dalla mano Grazie a Anello di catena Prendeva 500 Ogni Ogni Mossa Che faceva Quindi Non poteva Più attivare Le carte GG Easy Ci vediamo Un'altra partita Contro Che cazzo Questo cos'è Che era Questo Era Asincron No Questo era Punk C'è anche da dire Che insomma Max Shee Mi ha aiutato Molto a non Prendermi Ma poi come cazzo Si fa nella realtà A giocare senza Max Shee Veramente Io Boh Non lo so Cioè Stare a vedere L'avversario Che fa mosse Per 50 minuti Porco Dio Non è una cosa Simpatica E beh Il tizio si rifugia In Barone dei Fiori Con una settata Ha detto Vabbè Tu lo dopo Mote scopo Porco Dio Mote chiavo Tra l'altro Col Barone dei Fiori Nega La carta peggiore Tra virgolette Perché questo Non potevi immaginare Che io di Campanelle de Merde Ne avessi due in mano Però Poteva Semplicemente Negare la prima Summon Però ha detto Vabbè Ma io non nego la prima Poi magari mi fa qualcosa Questa si becca sempre In permanenza La povera carta Porco Dio Ma perché Vabbè Anche questo Si è preso Un mezzo TK In che senso Perché vabbè A parte che c'era anche La fusione magicalizzata Questo tizio Amarissimo Perché io picchio 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 E rimane Esattamente a 500 life points Con catena di energia Il tizio non poteva più Attivare le carte Non poteva più far nulla Non poteva né giocare Un mosto dalla mano E né settare Quei ho detto Che culo Mi sono salvato Sono dimostrato 500 life points No No porco Dio No Non ti sei salvato Allora ci vediamo Una partita Penso l'ultima Contro T.R.Elements Il mazzo comunque è carino Non è nulla di eccezionale C'è anche da dire questo Però il mazzo Nel senso Spammi i mostri Picchi picchi Fai danni Non è male Non è male Un po' costa Perché l'extra deck Più che altro è costoso Però non è male Allora Il tizio parte Con il solito Vabbè Scarto quella Piar culo Qua gli faccio maxi Molte partite Sono riuscite a giocarle Solo perché avevo maxi in mano Perché se no Cozze Super cozze Vabbè Il tizio cosa fa Fa tutta la combo T.R.Elements Cioè tutta Quasi tutta Evoca quella Ma come cazzo Hai fatto a perdere Porco Dio Vabbè Non è che C'è bisogno di Di grandi spiegazioni Poi qua sono partito Con due carte in più Del solito Anzi A posto di sei Sono partito con otto carte Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Anzi con tre carte in più Scusate E non avevo neanche una mano così clamorosa Perché mi mancava la campanella No è vero No è vero No ce l'ho Ce l'avevo la campanella Questa l'ho persa Questa partita Per una sola fottuta carta Che mi ha inculato Che è quella merda di coda favola Pezza di cane Che se il tizio non avesse macinato Qua è arrivato Esatto Avrebbe perso Però vabbè Ci sta Qua gliela Anzi Gliel'avevo rimessa anche nel deck Cioè gliel'avevo forzata A rimettere nel deck Quella carta Perché mi dava fastidio Visto che Non lo sapevo Ma quella carta Slega Gli effetti dei mostri Tipo sincrati Per esempio Io a un certo punto Avevo sul terreno Il QB Mondo virtuale Il tizio Il tizio me l'ha coperto E porca puttana Non aveva più l'effetto Che non poteva essere distrutto in battaglia Io sinceramente Non 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 me la ricordavo questa cosa Vabbè però dettagli Fa niente Il tizio comunque mi scopa nel mio turno Infatti Qui faccio la mossa del campione Non capisco Che cazzo mi è preso Boh sono un deficiente Vabbè Intanto capita Poi a me sarà buona Più di tutti Cioè attivo prima le catene di energia E poi setto Così sono proprio un coglione Cioè Mi prendo 2000 danni a gratis Sono proprio un coglione E questo tra l'altro Mi ha fatto anche perdere Però vabbè Dettagli Avrei praticamente perso lo stesso Perché? Perché Questa carta L'abbiamo fatta con Il tizio Che rende Dov'è? Che questo qua Che rende il mostro Indistruttibile in battaglia Ok? Non aveva modo Di tirarmi via Questo tizio Cioè Non aveva modo Di tirarmelo via A parte con Ovviamente La sempre La classica out Di caduto di albazzi Che però si è preso solenne E Porco dio C'aveva quella cazzo Di coda favola Che mi copre Il mostro Infatti avete visto Che il mostro era Indistruttibile in battaglia Invece così Si è slegato E ho perso Porca puttana Perché avevo tutto Tra virgolette Sotto controllo Facevo Come si dice Ring Nel momento giusto E La questa Poi non poteva più Attivare carte Niente Porca puttana Maledetta Porca troia Ci vediamo Un'altra partita Questo Questo qua Questo cos'era Synchron Vero? Eh questo è carino Anche Questo ti fa vedere Questo replay Ti fa vedere Come può O ti capare L'avversario Tra virgolette Facilmente Tra virgolette Sto dicendo sempre Tra virgolette Vabbè qua Ho vinto Perché avevo in permanenza Il tizio era partito Con la classica combo Che avevo qua Access Acceleratore Faccio 23.000 Mostri Immortali Che negano 25 milioni Di effetti Invece no Invece no Perché avevo in permanenza Sennò avevo Sucato la banana Esattamente La banana Non ci piace Succhiare la banana A noi Non ci piace Che va qua Gli nego l'effetto E il tizio Non arriva al turno dopo Perché passa Non aveva nient'altro Da fare Non arriva al turno dopo Con questa mano E' un OTK Anche senza Fulmine Tempesta Per dire E' un OTK Anche se l'avversario C'ha un mostro Comunque sul terreno E' tranquillamente Un OTK Perché la tizia Chiama Stratos Stratos Chiama quella Che ci manca In base a quella Che abbiamo in mano Insomma Fottiamo l'avversario Qui prima volta Che attivo l'effetto Non mi fanno in permanenza L'effetto è che Questa qua Quando viene evocata Inflige La metà dell'attacco Di un mostro Vento strega Nel cimitero E se noi facciamo Danno da effetto Da battaglia Possiamo spaccare Una carta sul terreno Attivo la fusione Magicalizzata Evoco il vento strega De merda Picchio picchio Vinto la partita Proprio facile facile Niente allora ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Fatemi sapere Come ho detto all'inizio Cosa ne pensate Del vento strega Campanella Vento strega Super campanella Ma questo qua L'ho fatto vedere Questo dead break Cos'è che giocava questo Questo giocava Ah si si L'ho fatto vedere Ok perfetto Niente ragazzi Ci vediamo al prossimo video Bella a tutti E vento strega Dai carino Ma è carino vento strega Bella a tutti